La mappatura è stata fatta, è completa, quindi andrà in delibera questa settimana in giunta e verrà inviata ad Agenas e al Ministero entro il 20, quindi tempi stabiliti. I tempi per poi poter avere le risorse sono piuttosto già scanditi. Noi come Regione Lombardia abbiamo già mappato tutte le case di comunità, ospedali di comunità e centrali operativi e territoriali. Abbiamo una delibera questa settimana, presenteremo al governo tutta la mappatura che abbiamo fatto e ci siamo dati dei tempi certi. Il suo lavoro e il suo impegno quotidiano e innovatore per la difesa delle donne e delle persone fragili sono testimonianza concreta di come sia possibile prestare le proprie conoscenze per la tutela dei diritti fondamentali della persona. Grazie. 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 Buonasera! 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 Mi sto sforzando di tagliare un po' di carboidrati e ho trovato la fiera giusta! Buon Natale, buona fiera ragazzi! Grazie di cuore!